C'è una voglia di tornare fuori che talvolta diventa anche voglia di abusare e c'è una ripresa di comportamenti che davvero numericamente stanno dandoci tanta preoccupazione. C'è bisogno di tutti insieme reagire a questo momento difficile che è la ripresa dei contatti, delle relazioni e anche dei rischi che il lockdown aveva illusoriamente pensato di sospendere. L'abuso di alcoli, il binge drinking, le cosiddette abbuffate alcoliche, un fenomeno purtroppo in crescita tra i giovani aretini anche sotto i 18 anni. Dispiace sempre molto vedere quanto i ragazzi ripieghino sull'alcol per magari coprire situazioni di disagio vicine nella famiglia, a casa e si è capitato. Il ruota di club Arezzo ha così promosso assieme al liceo Francesco Redi di Arezzo un progetto dal titolo più che eloquente difendiamo i giovani dall'abuso di alcol. L'impegno va con due obiettivi, dare l'opportunità di prevenzione ai giovani sull'alcol e rendere informati e consapevoli i genitori perché spesso gli stessi genitori non sono a conoscenza di quello che fanno i ragazzi giovanissimi. Il progetto prevede anche la realizzazione di un'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'uso di alcolici tra i ragazzi in una fascia di età che va dai 14 ai 18 anni. Molti ragazzi muoiono per coma etilico, a ogni festa abbiamo ragazzi ubriachi che fanno danni, che perdono proprio il senso del controllo, il senso di sé. Allora attraverso questo progetto noi desideriamo invece costruire qualcosa, un messaggio, un'attività, una proposta perché questo problema venga affrontato e possibilmente arginato e superato. Ogni scuola dovrà individuare un gruppo di 10-12 ragazzi che saranno informati da esperti sulle conseguenze fisiche, sanitarie e legali determinate dall'uso dell'alcol in giovane età. Saranno poi i propri giovani ad elaborare un progetto per veicolare il messaggio. L'importante è il confronto con loro perché è responsabilità ma anche perché è speranza, perché è presente ma è anche futuro, perché è frutto di un lavoro e di amore.